Allora ragazzi, ribenvenuti, siamo arrivati qui e dobbiamo liberare la barca. Allora, tanto andiamo a fare queste cose qui, questo abbiamo visto che abbiamo la mappa aggiornata e niente, vediamo cosa ci dice questo. Come fare di essere qui prima di voi? Ah no, ma questa è... La strada tra i regni unica. Magari è l'unico modo di viaggiare per voi, ma i mali sono temi di sorprese? Non è una risposta. Ah, ma che hanno costretto questo senso di stupore? Sono così pochi misteri quando possiede una quantità di conoscenze arcane per le mie. Dove scavare e risorzerare nel regno? Come usarle per creare un meraviglio oltre ogni immaginazione? Ma... Ma... Andiamo dai, tanto ci abbiamo già parlato, dice le stesse cose, ci abbiamo parlato nel video prima. Allora, vediamo. Perfetto. Ok. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Direi proprio di no. Ok. Allora andiamo con questa barca. Vediamo come succede. dobbiamo catturare questo. Niente. Davvero? Ok. E adesso? Di qua. Tua madre parlava di questo regno. Non molto. Aggiungi il tempio ad anelli. E stavano isolati. Allora, innanzitutto per illustriamo questo fiume. La prima cosa da fare. Giriamoci tutto intorno. Il tempio ad anelli dovremmo poi trovarlo, no? Mi pare... Qui non si può traccare. E allora... Andiamo a vedere anche di là. Poi andremo in mezzo, eh. Dunque, noi siamo partiti da qua, quindi. No, volevo vedere se c'era dei barili. No. Di qua neanche. Giriamo la barca. Ah, ok. Vedo qualcosa lassù. Ecco. Perfetto. Quindi di qua. Però di qua c'è da andare. Volevo vedere... Se mi fa andare in qualche zona. Che c'è un qualcosa da fare. No. Direi che qui è tutto chiuso. Almeno. Credo. Io non ho detto niente. Strano. Avrei giurato che... Che hai, ragazzo? Voci. Tu non le senti? Non so cosa succede. Se ne stanno andando. Sentivo delle ore. Tante voci. Arrabbiata. E tu... Non le sentivi? No. Erano... Malvagie. No. 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 C'è una luce. C'è un qualcosa. Poi di lì ci torniamo. Comunque. E là sopra cosa c'è? Wow. Una bevanda ottenuta dalla... Molto bene. Molto bene. Molto bene. Vedete? Bisogna sempre fargli tutti i punti. Sì, sì. Ma non so che devo andare di lì. Stavo guardando un po' in giro, eh. Ok. Io direi che possiamo andarcene... Allora bisogna andare di là. Ok. Perfetto. Ci siamo tolti il dubbio. Bene. Non è difficilissimo. Oddio. C'è dei punti che... Non è facile. E dei punti che... Allora andiamo. In quest'altra avventura. Dobbiamo raggiungere la torre degli... I manali. Che bello che è però. Guardate che bello. È fatto bene, eh. Andiamo. Che figata. Guarda. Proviamo a parlarci. No. Se gli serve aiuto? Non ci ostacolano. Quindi non ci interessano. Ma forse... Non ci interessano. Invece... Non ci consentiamo andare dietro loro nuovo. Di qua non possiamo andare dietro loro novo, eh. Edicolo non possiamo andare dietro loro nu, eh. No. Ok, allora dobbiamo andare di là, prendiamo ancora questi fiori, se ce li dà, ok, quindi attenzione, ma che adesso qua c'è da ridere. Ah, un viaggetto lunghiero, eh. Cos'è da dentro? No. Eccoci qua. Eccolo. Lago di luce, ok, allora, vediamo adesso però dov'è che ci fa andare, perché... Questi fiori però... Ah, bisogna attraccare le forze però... Ci sono due tiri di guerra, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Guarda, guarda cosa c'è qua. E' quello vinto da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. E' bellissimo però, guardate che roba, oh, madonna. E' immenso questo affare. Questo lago, lago di luce. Allora, vediamo un po' se ci fa attraccare qui. E qui forse c'è qualcosa da fare, vediamo. Eh sì. Anche dal fai vanno le vasche di sabbia. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me nella morte è sicura. Ma dentro di te io sono la vita più pura. Ma non vedo rune nei paraggi. Cerchiamola. Torniamo alla barca. No. Un bel casino. Ragazzi vi avviso che questo sarà un gran casino. Ok. La porta blu. Deve essere questo l'ingresso. Andiamo. Sta attento. Qui fa tutto. Oh Cristo. Cos'è sta roba qua? Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Perché? Per impedire i rinforzi. A seconda, buttiamoci. Adesso da! La vista! Kaia! Oh! Oh! Ah! No! Oh! Oh! Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che delirio Ok e adesso Oh Ok 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 Sì, sì, sì! Mamma mia! Madonna, quanti ce n'è? Mamma mia! Vieni alla vasca di sabbia! Trovo un modo per entrare nel tempio. Come facciamo entrare? Non vedo nient'altro qui. Forse dovremmo ricontrollare la vasca di sabbia. Non vedo nient'altro qui. Forse dovremmo ricontrollare la vasca di sabbia. E adesso dov'era? Ah no, aspetta, aspetta, forse la vasca di sabbia l'avevamo vista da quel pezzo dove l'avevamo attraccato la prima volta. La sua famiglia fu decimata dagli nemici. Miccarea! Divenne una guerriera, ma la sua guerra era a restare in una sopra di tutto il suo mondo spietato. Per questo sti sassi di i brocchi di costruirle l'ascio. Aveva la forza di prendere una tale arma e la saggezza per usarla a fin di bene. Aspetta un po', va che c'è? La vasca di sabbia, eccola qua. Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica. Non si. Eh! Erano di nuovo le voci. Ma erano voci diverse. Mi non arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? No. No. Guarda che storia. Ah, la tro... Che succede? Wow, guarda qua. Mincerà. Ragazzi, spettacola. Vado? Sì. Le voci che sentivo non erano chiare. Ma in sottofondo sono sicuro fosse... Mamma mia, che roba. Portato del tempio ad anelli. Mmm. Sono diversi. Guarda quelli qui. Durma. Dietro di me. E portando a... Non è un buon segno. Sono pronto. Bello. Come. Oh, Giulio. Ti va HER. Bello! Oh! Oh! Vieni qua. Grazie per la visione! Grazie per la visione! No, mi ha ammazzato, mi ha ammazzato ragazzi, niente ci lasciamo qua e ci vediamo alla prossima, intanto vi ho fatto vedere dove sono arrivato, devo ammazzare questi e poi andremo avanti. Ragazzi, grazie di tutto per adesso, ciao e buon pranzo!